Lì, guarda, bisogna fare attenzione ai signori di Twitch e ai signori della novia. Ti prendono insieme? No, devo... Quando la riunione dei grandi signori... Opa, Stefano, per favore. Quando la riunione dei grandi signori e ti giudicano. Si, ah no. Della corte dei grandi signori. Loro si siedono... Loro si siedono nella... Tavola triangolare. Nella tavola sgradonta. Quella storta. La tavola sgradonta. Quella storta della tavola. Esatto. Di che materiale è fatto della tavola sgradonta? Materiale... Strano. A me è policarburato. Di carbonio? Eh, io. Con finiture in... Ismeraldo... In fibra di tizzania. In quarzo. In quarzo starzo. In quanto starzo, esatto. In quanto starzo. In quanto starzo. Starzo cazzo. Star star starzo. Perfetto. Quale è il comando? Forse era questo. Perfetto. Let's go. Sì. Sì. Grazie a tutti.